Cherry Season 2 Puntate dal 19 al 23 giugno 2017 Anticipazioni settimanali Grandi colpi di scena in arrivo per tutti i fan di Cherry Season La stagione del cuore, la popolare sop opera turca che è tornata in onda con la sua seconda stagione Le anticipazioni ci rivelano che Oiko reciterà con Eyalzin una serie tv Onem e Mehmet si sposeranno, invece Seima sarà arrestata Oiko è convinta di avere il malocchio e va da una maga Ma non sa che la maga è la zia di Ayaz che ha legato quella vera per prendere il suo posto Nekmie, come maga, cerca di convincere Oiko a lasciare Ayaz Ma dato che Oiko la esclude, le dice di prendersela con la madre di Ayaz perché è lei che le ha lanciato una maledizione Quando la sera Mehmet e Onem vanno a cena da loro e confidano a Ayaz e Oiko di volersi sposare Oiko si comporta in modo assurdo secondo le istruzioni della maga zia Intanto Meite cerca di rientrare in casa, ma Seima ha cambiato la serratura E Monica, delusa perché Mehmet si è rimesso con Onem, decide di chiudere la loro società Oiko e Ayaz sono ancora le prese con le follie della zia Nekmie Decisa a fare di tutto per esprimere un desiderio in grado di separare per sempre il nipote Oiko gli amici si schierano e tentano di mettere in scena una farsa sulla superstizione per spaventarla a tal punto da farla demordere Nel frattempo, tutti sembrano voltare le spalle a Meite, compreso suo padre E una volta appurato questo, decide di compiere un gesto estremo e sparisce nel nulla Monica decide di lasciare la società di Mehmet e di tornare in Italia Il compleanno di Ayaz si conclude nel migliore dei modi con il matrimonio di Onem e Mehmet Organizzato da Oiko, nel ristorante Dilker Ma le sorprese non finiscono mai Il regista che li aveva incontrati sotto l'albero dei nodi si presenta al ristorante e chiede ad Oiko di recitare in una serie TV Ayaz si oppone a Oiko e d'accordo ma quando si manifesta la necessità di raccogliere più soldi per aiutare la famiglia a coprire i costi per le cure della nonna Si vede costretta ad accettare l'offerta Nel frattempo, la famiglia di Burku è sconvolta da un video arrivato a Seime che mostra un uomo, somigliante a Meite, che si suicida Ma Seime riceve una telefonata in cui Meite le fa capire che sta architettando tutto per potersi vendicare di lei Oiko, contro la volontà di Ayaz, decide di partecipare ad una serie TV Ayaz lo scopre e fa di tutto per boicottare le riprese e prendere il posto dell'attore che dovrà baciare Oiko Finirà con essere lui il compagno di Oiko sul set Seime scopre che Meite vuole incastrarla, si è introdotto in casa sua, ha versato i suoi stessi soldi sul conto di Seime E ha mandato una lettera alla sorella e alla polizia dicendo che, qualsiasi cosa gli accada, sarà colpa di Seime Burku fa arrestare Seime Oiko è sconvolta dalla notizia, prima di tutto Prima di tutto perché teme di non riuscire a risparmiare abbastanza da pagare le cure del padre In secondo luogo perché crede che Ayaz si monterà la testa e la lascerà Nechmie, la sorella di Meite, perseguita all'uomo Eonem durante la loro luna di miele In secondo luogo